In questa legge di stabilità abbiamo visto come il signor Renzi utilizza una legge per farsi campagna elettorale. Ha distribuito un sacco di soldi che si possono definire marchette, perché stiamo parlando di 100.000 euro data a queste associazioni, 150.000 euro data ad un'altra associazione, un milione di euro data a quel museo e tutto. Noi abbiamo detto che queste cose non si possono fare, soprattutto considerando che c'è anche la legge di stabilità che lo vieta, ma lui tanto sappiamo che se ne frega di quelle che sono le regole.